Eccoci qua nella registrazione del nuovo allenamento, andiamo! Ok, quindi all'interno eravamo, per ripetere un po' quello che ho detto prima, uno zaino zavorrato con quello che avete di pesante, eventualmente un bilangere fatto in casa e una sedia che vi bastano oggi. Quindi roba semplice ma efficace, andiamo a sinistra adesso. Questa casa sta diventando un po' piccolina, deve fare tutte queste cose, ma quasi quasi sposto il divano da una parte, devo trovare un modo per arrangiarmi meglio. Bene, di chi anche ve lo faccio vedere, come sempre, chiappette strette, sono un vecchio di 80 anni, la ragazzina modena del 2006, culino in fuori, stringo, apro il culo, stringo, apro il sedere, retroversione del vaccino, antiversione del vaccino. Questo è un ottimo esercizio, come ho sempre detto, chi mi segue per la prima volta, per aiutare la colonna lombare a sciogliersi, spesso è rigida e quindi ci viene il mal di schiena, quindi questo è un ottimo movimento per sciogliere e iniziare anche a prendere coscienza del nostro corpo, anzi del vostro, in questo caso. Perché tutte queste cose? Perché sono le articolazioni che adesso andiamo a sollecitare, quindi se siamo bloccati, è ovviamente un corpo bloccato, più il tot non scende e se vogliamo forzare, compensiamo da un'altra parte. Adesso, rotazioni del vaccino sul posto e in fuori, c'è un piccolo cerchio, immaginate di essere Shakira o Michael Jackson, e poi si cambia, ne facciamo 5 a destra, 5 a sinistra, abbiamo un piccolo 1 a 8, ok? Ancora, dall'altra parte, 1, 2, i piedi sono ben poggiati, 3, 4, 5. E' un lavoro di addome, della muscolatura pelvica, della muscolatura lombare. Un altro giro a destra, 1, 2, 3, 4, 5. E l'ultima a sinistra, 1, 2, 3, 4 e 5. Adesso, movimenti più ampi, disegniamo un cerchio gigantesco, 4, 5, col culo indietro, col sedere indietro, giriamo dall'altra parte, cioè nel senso il cambio, lo diamo quando il sedere va all'indietro. Uso delle terminologie un po' varie, dalla più volgare, come direbbe Dante, quella dell'inferno, alle più auliche, quale è il sedere, il gluteo, perché io mi rivolgo a tutti, a Principi e a Lazzaroni, anche se mi piacciono di più i Lazzaroni, sono più veraci, sono più belli. Ok, ancora. I villanzoni, come ho sentito dire l'altro giorno. Ok. Adesso ci tocchiamo l'esterno delle ginocchia, portando sempre la mano opposta verso l'ascella, perché è importante sciogliere bene la colonna, farla muovere, e vi ricordo ragazzi, visto che sta capitando, quando finite di allenarvi, fate allungamento almeno 10 minuti, perché poi mi scrivete il giorno dopo, oddio mi sento bloccata, per forza, perché comunque il corpo, per quanto lo stresso, lo devo destressare. Oddio, mi sono imparato, ho inventato una nuova parola, perdonatemi, ma se lo faceva anche l'Ieri, perché non lo posso parlare io? Scusa, non è che lui sì e io no. Come direbbe, diceva l'Ino Bambini all'entrata del pallone d'uovo, ma se lui può parlare latino, perché non lo posso parlare io? Ok, torsioni del busto, lasciateli andare. Chissà, un giorno mi rendi un canale ufficiale questo, perché magari molti di voi sorridono per le mie stronzatine, per le mie cavolate, tutto è possibile, magari, sai, io mi diverto, come dicevo prima a mio amico Lu, un giorno quando vorrò andare a fare una vivetta nel suo studio, quando sarà famoso, sarò ben lieto di partecipare, a dire cose interessanti, ma alla maniera verace e simpatica, perché io ho sempre studiato con un collega all'università e ci facevamo delle grandi risate e ci ricordavamo tutte le nozioni di anatomia biochimica, perché c'era attaccato un sentimento, un'emozione, ok? E ecco perché io spesso insegno, scherzando, anche se poi sono molto severo e pretendo. Beh, talloni sotto le anche, punte in fuori, ci andiamo a sedere, sempre l'esempio della turca, praticamente stiamo mimando una sorta di squat e stiamo in posizione isometrica, cioè non c'è movimento, la pancia è in dentro, le spalle sono tirate indietro, il peso è sul tallone, ma è anche comunque su tutta la pianta del piede, ok? Quindi non dovete stare col sedere alto sotto le ginocchia, a meno che non abbiate blocchi articolari, e quindi rispettabili, altrimenti schiera è retta e stop. Oggi faceva molto freddo, infatti ho dovuto riaccendere i termosifoni, che nella casa mi dava 17 gradi e mezzo, fino a 18-18 e mezzo riesco a stare senza termosifoni, e poi dopo un minimo, ho le mani anche a voi geloni, un po' spaccate, quindi il problema è la genetica della famiglia purtroppo, e che vuoi fare? Ok, sciogliete le gambe, e adesso oscillate, avete un pendolo, accompagnate con le mani, lasciate andare la gamba, facciamo scollare un po' l'articolazione, come vedete non vi sto facendo fare movimenti statici, quindi lo stretching classico, perché non bisogna mai detenzionare il muscolo prima di dargli un'attenzione, perché se tu gli dai uno stimolo di allungamento, di detenzione, e poi lo vai a tensionare, c'è qualcosa che non va, decidi ti spartare, che vuoi fare? Mi vuoi contrarre o mi vuoi allungare? Ecco perché si parla fin nello stretching, ovviamente blando, che poi dovrebbe essere un allenamento mirato da fare in un giorno apposta. Gamba sinistra, Infatti Bolt non allena, o comunque i corridori, i velocisti, non vanno mai ad allungare il polpaccio prima di allungare, lo allungono in maniera dinamica, ok? Che si contrae e si allunga in maniera naturale, altrimenti perderebbe l'effetto elastico. Fateci caso. Provate a fare stretching, si può andare a fare una seduta di pesi, mamma mia. Quindi meglio movimenti dinamici, che scaldano l'articolazione piano piano, e la muscolatura che si allunga, e i tendini si scaldano. Ok, adesso, per chi non li sa fare, vedremo gli affondi, gli affondi avanti. praticamente un lungo passo, scendo con il ginocchio indietro in basso, la punta dietro è puntata, il tallone è sollevato, la piedra del piede è ben poggiata, e il tallone spinge per andare in alto. Cambio gamba, faccio un lungo passo, tengo forte la pancia in dentro, inspiro, scendo, soffio, e salgo. E facciamo 20. 3, 4, inspiro, 5, inspiro, scendo piano, controllo, 6, 7, 8, 9, la propulsione, la dà il piede dietro da andare avanti, 10, 11, perché io sollevo, voi condannate il piede davanti, però poi mi devo sbilanciare con il piede che sta dietro, ok? Non siamo, cioè, non è che è il davanti che ci fa andare avanti, ma è il dietro che spinge il corpo ad andare avanti. Io ho perso il conto perché preferisco chiacchierare e darvi delle nozioni che possono essere utili. Ok, diciamo che ci siamo arrivati. Questi sono gli affondi in avanti che li faremo dopo. Poi ci sono gli affondi indietro, quindi in questo caso è tutto il contrario, è la gamba che rimane avanti che spinge il corpo, ma sollevo, in questo caso il mio ginocchio destro, mi vado a prendere un bello spazio indietro, mi fermo, e quindi il mio tallone, guardate, non c'è l'indietro, altrimenti guardate che succede. Mi fermo, col colpaccio lo strizzo, embrico le dita per terra, piego il ginocchio, soffio e salgo. E tutto al contrario, ok? E serve per attivare prima la parte posteriore del corpo, ma l'addome è indietro, è tirato, dovete strizzare la zona pubblica, tenerla tesa, attiva, ok? Non troppo, ma dovete percepire che è una sorta di base d'appoggio del nostro corpo, ok? Questa sto dicendo, questa zona qua, dall'ambellico, dentro l'ambellico, sotto l'apparato genitale, ok? Lì c'è più di muscoli, dopo andate su internet, scrivete pelvi, muscoli pelvici, c'è di tutto e di più, ok? E vedete anche che un muscolo contratto può dare fastidio a determinati visceri, oppure il contrario, quindi niente accade per nulla, tutto quanto è collegato al nostro corpo, è solo che a volte la nostra centralina non funziona, perché non siamo abituati ad ascoltare, ok? E questo è un affondo indietro, ricordatevi non sollevare mai il tallone, sia nell'affondo in avanti che nell'affondo indietro, quello davanti in questo caso, e di non andare con il ginocchio oltre la punta, io purtroppo non vi vedo, ok? Non vi potrò correggere, però cercherò di ricordarvelo, ok? Beh, gli affondi laterali sono un passo laterale o il piede che, diciamo, non affonda dritto, ok? Il piede che affonda, in questo caso il destro, largo con la punta all'esterno e vado a inclinarmi, ok? Si fanno sempre sul posto, cioè dallo stesso lato, scusate, per una questione di comodità, ok? Perché non abbiamo tanto spazio in casa. Quindi, chiudo, apro, piego il ginocchio e scendo e spingo bene da tutta la gamba, i principi sono gli stessi, pancio in dentro, petto alto, apro, chiudo, spingo dal tallone, dall'altra parte, qui, punto in fuori, piego, su, piego, e come quando si faceva lo stretching a scuola, quello così, ok? E' simile. E' un'altra tipologia di lavoro sul muscolo gluteo, sui muscoli adduttori, ed è in carico, sempre la gamba anche, che in questo caso si stende, ok? Stop. Quindi, affondi davanti, affondi indietro, affondi laterale, bene, gli affondi bulgari. Allora, per gli affondi bulgari che ti bisogna della sedia, si mette una zampetta dietro, poggiata con il dorso del piede sulla sedia, ragazzi, il dorso del piede è questo, ok? Non la tibia, non l'articolazione della caviglia. piede destro bene avanti in questo caso, piede sinistro indietro, inspiro, scendo, soffio e salvo. La gamba sulla sedia è solo in appoggio, ok? Quindi, vi serve solo per mantenere l'equilibrio. Scendo in basso con il sedere che va in basso e indietro per rispettare quel concetto del ginocchio, ok? Non schiacciate troppo sul piede dietro perché vi potrebbe dar fastidio l'osso, ok? Nel dorso il piede. Cambio, inspiro e scendo, soffio e salgo. Noterete che da un lato è molto più semplice, ok? È un lavoro monopodalico che vi permette di concentrarvi meglio su una fase del movimento. Ok? Beh, stop! L'ultimo esercizio che nella schiena andremo a fare sono gli squat. Ho detto prima squat uno e un mezzo. Lo squat uno praticamente intendo lo squat completo. Uno, due, dove tengo le ginocchia in fuori quando scendo, i talloni sotto le anche e mi creo spazio, ok? La schiena è eretta, quindi non mi vado in curvare, ok? Quello si fa in altre occasioni, in situazioni di raccampeggio. Inspiro e scendo dal ginocchia più fuori, spingo attivo il tutto e salgo. Mentre lo squat mezzo è questo, salgo poco, scendo in basso, salgo poco, scendo in basso. Questa è una bomba, provatelo. L'acqua secca, tranquilli, sto bene. Inspiro, se non riuscite ad arrivare ovviamente in profondità, lo riducete, ok? fate piccoli movimenti range, su range ridotto, ognuno deve rispettare la propria mobilità, ok? Non c'è un premio, non c'è niente, lo squat è soggettivo, tenete sempre la zona addominale dura e sentirete la spinta sul gluteo, ok? I dati cinque secondi e poi vi spiego il primo esercizio, così incominciamo. Eh, fa tutto al contrario. Allora, hip thrust è l'esercizio, uno degli esercizi di maggior carico sui glutei, che, ragazzi, è fatto sempre dalle donne, sempre, ma è un esercizio per gli uomini, perché? Eh, allora, intanto dovete poggiare le spalle su una sedia e stare col bacino il più alto possibile in questo caso e tenere il tallone in linea perpendicolare sotto il ginocchio, ok? Questa è la vostra posizione di arrivo. Il corpo con la testa non è incurvato, è dritto e quindi con le spalle si scende in basso e si segue tutto il movimento del bacino. Perché degli uomini? Eh, perché chi di voi fa certe cose lo sa, ok? E invece lo fanno più che altro le donne. Quando in realtà soffio e salgo, inspiro e scendo, devo muovere sia il bacino che le spalle insieme, altrimenti andiamo a rovinare la zona lombare e facciamo male l'esercizio e non è per niente efficace. Qui, professore, praticamente, mettete il vostro peso, ok? Inspiro e scendo, soffio e salgo. Qua il sedere è strizzato, la schiena è inarcata, quindi non vado a fare la retroversione, non metto il sedere in dentro, lo tengo sempre in fuori per rispettare la curvatura lombare classica, ok? Niente di più, niente di meno. Inspiro e scendo, soffio e salgo. Inspiro e scendo, soffio e salgo. Quindi le spalle sono anche un centro di rotazione del corpo, ok? Uh! Ci siamo? Vi torna? Bene, allora, adesso inizieremo a fare tre sedi da venti, scusa, due sedi da venti con gli hip thrust normali, quindi due piedi poggiati e poi faremo una sedia a destra e una sedia a sinistra dove praticamente stavo scordando di dirvelo, metteremo un piede a cavallo sul ginocchio, ok? Il movimento ovviamente è più piccolino quindi non possiamo pretendere di andare tanto in basso che come ho detto prima dipende anche dalla vostra mobilità. Preparate lo zaino, preparate il disco, preparate il kettlebell, preparate quello che vi pare sotto l'ombelico, ok? E lo potete tenere con le mani per non farlo calare. Io prenderò il mio zaino di ditta e cercherò di posizionarmi. Un po' scomodo, però si fa. Adesso, che bello pesante. Vedete? Metto le spalle sul bordo. Capitana! Lo faccio così. Io ho messo in sicurezza la sedia attaccata al divano in modo tale che non scivoli indietro. Vado in posizione e partiamo, ragazzi. Con le mani potete tenere fermo il peso. Ricordate, il tallone è perpendicolare sotto il ginocchio. Quindi non piedi troppo stesi né piedi troppo indietro. Con le spalle accompagno il movimento. Paggini dentro, uno in fuori, inspiro. Uno. Strizzo bene il sedere. Due. quando vado in alto. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Allargo le ginocchia, eh? Non le chiudo all'interno. Sette. Otto. Nove. Dieci. Alla metà. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Inspiro e scendo. Soffio e saldo. Vindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Dicione. Venti. Quaranta secondi. E la prima è andata. So, è un po' scomodo ragazzi, ma dobbiamo arrangiarci. E non siamo in palestra. Non abbiamo la macchina. Non abbiamo il bilanciere. e quindi è così. Infatti dopo, secondo questo mi ingombra quella una gamba, devo vedere se riesco a farlo in maniera comoda. Venti secondi. Ah! Avete sentito la chiappetta che stizia? Mi raccomando, non dovete sentire dolore alla bassa schiena. Vuol dire che state mobilizzando la polona e non la state tenendo ferma. Ok? State compensando. Ricordate che con la testa andate lì indietro. E non vi credete in avanti. E questo è il movimento. Tre. Posizione. Due. Uno. Balloni sempre sotto il ginocchio. Via. Altre venti. Uno. Due. Tre. Mi ispiro. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Oto. Nove. Soffio e salvo. Scrizzo bene. Spingo il più lato possibile. Undici. Dodici. Tredici. Quattordici. Quindici. Sedici. Diciasette. Diciotto. Diciannove. Venti. Stop. Ok. E la seconda è andata. Adesso bisogna fare una serie da dieci a destra una serie da dieci a sinistra. Dovete accavallare la gamba quindi come quando state diciamo la posizione più dei maschi che delle donne. perché le donne mettono il ginocchio sopra l'altro e hanno una posizione più principesca noi invece stiamo proprio con il piede sul ginocchio è quella dei maschi quella che dovete fare. Venti secondi. io metto il piede sinistro sul ginocchio destro ok? Così lo vedete meglio nella prima. Cinque quattro tre vedete? Due uno via dieci uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci dieci secondi solo di riposo ci prepariamo col piede destro sulla ginocchio sinistra controllate sempre la perpendicolare del tallone sui ginocchi non lo controllate pensavo di essere un po' stretto è la forma di spiegarvi tre due uno via allora tallone sotto il ginocchio viene accavallato uno due tre qui mi sento più baciato quattro cinque sei sette otto tirate l'ombelico in dentro forte nove dieci stop e gli hip thrust sono andati ok? nulla vi vieta che domani se volete rifare questa esercitazione aumentate le serie riposo adesso si parte con gli affondi in avanti quindi io mi metterò lo zaino sulle spalle classico ragazzino che va alle scuole alimentari superiori però terrò per sicurezza le mani dietro perché non vorrei che mi scondasse anche se per l'esperienza personale gli zain invicta sono i più resistenti della terra ist qualcosa invicta lo sto facendo è solo che dico le cose come le penso che non c'è niente di strano facciamo un po' di show allora per se la 20 affondi in avanti per il che avevo fatto il riscaldamento preparatevi potete ovviamente anche usare altro non per forza lo zaino anche un bilanciere se ci vorrete se c'è Paolo collegato e c'è il bilanciere a casa ovviamente deve capire di usare il suo bilanciere ok vedete per protezione ok aspetta che questa è un po' sposto se ci metto il piede faccio come il Carlo a fraccia e mi dè Paolo ok piede destro avanti 1 2 ricordate il torno all'arri davanti sempre poggiato inspiro 3 spingo il piede dietro e sulla punta 4 addome duro 5 6 7 8 queste case antiche antiche le 5 le 40 9 non avevate col burro vai a fare un muro ti cade tutto 11 12 spezzate bene il sedere inspiro socchio salvo all'inizio 13 14 15 16 17 18 Inspira 19 20 Riposto, 40 secondi 3 serie Io quando andavo a scuola avevo L'agenda sempre pesante Perché Odiavo dividermi i libri con i compagni Non perché mi facessi scritto il contatto Ma non ti puoi mai fidare Delle persone Che se poi lui si dimenticava il libro Rimanevi con un fesso Io purtroppo su questo sono molto Eh, lo so, rigido Ma come si dice Aiuti che Dio d'aiuta Chi fa per sé fa per tre Quindi lo trovi una persona Che è il tuo con la tua copia O se no Affidi la tua vita agli altri Non va bene sempre Puliti la sua fia Ok Sto boccato Si parte col piede sinistro adesso 3 2 1 1 Inspiro Scendo 2 3 Siate delicati nel passo Ricordate che la propulsione viene dietro 4 5 Ok, vedete il mio piede adesso Quello dietro 6 E sollevato col tallone 7 7 Ah no, 6 7 L'ispa riserva a sinistra 8 9 Piano col passo Delicati Così siete costituati a usare più muscoli 10 10 11 12 12 13 E si è bloccato 14 15 16 16 17 17 18 19 20 20 40 15 40 Perché a parlare ragazzi ci stanno Ragazzi si dovesse staccare la diretta perché andiamo lunghi, non scappate, la riattivo subito eh, non vi preoccupate perché c'è un limite di un'ora e quindi tra riscaldamento e fare un po' tutti gli esercizi ci vuole tempo, 10 secondi, 3, 2, 1, piede destro e avanti adesso, 1, 2, ricordate il ginocchio davanti non supera mai la punta del piede, 3, al massimo sta in linea, vedete, io scendo ma scendo anche in basso verso dietro, 5, no, 4, 5 a destra, 6, 7, 8, 9, 10, tutto il piede è ben poggiato, 11, 12, io spesso li faccio scalzi, 13, anche i miei allievi gli dico sempre di allenarsi scalzi, 14, siamo andati senza scarpe, 15, il piede 16, dà molti più informazioni perché sente, 17, 18, 19, 20, ok, adesso abbiamo gli affondi indietro ragazzi, lungo passo indietro, il tallone che va dietro non cede per terra, rimane sollevato, altrimenti perdiamo l'equilibrio, 2 sedi da venti e basta,